Ciao, sono Giulia. Io sono Antonio. E assieme siamo Piero Matto. Siamo nella nostra bottega Santa Sofia, una stamperia d'arte tessile che porta avanti un'antica tradizione romagnola, la stampa ruggine. Di questa tradizione portiamo avanti soprattutto quello che più ci affascina che è l'utilizzo di tessuti e colori naturali come la ruggine e il fatto che si può fare tutto con le nostre mani. Grazie.